Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Prima di cominciare, come sempre, saluti Saluto Florentina Saluto Rally Car Grazie, sempre Rally Car, sempre nel pezzo F40 Spotter Questo è un codice fiscale Saluto User VE1IH1RME4U Saluto Tommaso E saluto Leonardo Latino Buona visione Oh raga, bella, Samistream RS6 Autobahn tedesco E niente, abbiamo 300 Rally Ok, vecchio Challenge accepted Ok, a posto, easy Easy, bro Easy peasy Siamo a 350, what the fuck Wow, wow, wow 8 marce è il massimo Però, wow, 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 wow Però aspetta, qua ci dovrebbe essere la fine della mappa Oh, tunnel Senti che sound Senti Che poi qua c'è anche Oh, no, oh, hell no Huh? Che è successo? Huh? Si è bagato tutto Oh, si è bagato tutto Ricomincia Si è bagata la mappa È tutta nera E niente raga Torniamo tra poco Ok raga, siamo tornati Wow, what the hell Vabbè raga, siamo tornati Siamo con l'Audi RS6 Di no, eh sì Non è la mod migliore Sono in stream Quindi ho sta camera adesso Quindi vi do questa No, le PC sono dei bastardi È troppo potente Per le coste della California Quindi mi diamo il turbo Al 10% Wow, damn Scusami sì La maggior parte delle mod C'è delle mappe col traffico Free roam Sono tutte mappe chill Tipo Costa della California E le Canyon Kanasawa Città Là è più per spingerla Ci sta alla fine Qua provo a schienarla Solo che strade strette Per darla controllo Mille volte Cioè qua sarà un caos È per quello che non guido Nei passi di montagna Non sono capace Non sono capace Cerco di andare veloce E non ammazzarmi Qua è pieno di tornanti Siamo tipo su una costa Infatti da là Là si vede il panorama Oh Sì un po' caos No caos No sarà un caos Aspetta Il traffico Non lo vedo Mi sa che devo alzarlo No Io comunque c'ho beef Con gli NPC Perché Cioè non è possibile Cioè Mi odio Oh Troppo traffico Ok 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 Spuono un altro davanti Però qua Non è facile Perché ha tante curve L'unica sarebbe portarla O a Kanasawa O a Tokyo Shutoko Qua siamo California Downhill Gli NPC Aspetta che Devo un attimo Vengono giù forte Sì sì Porche di aria Sono pazzi Gli NPC Aspetta fammi provare Challenge Bitch Bello Vediamo cosa succede Se L'auto dietro L'ha colpito così forte Che ha cambiato colore Crazy Avete visto anche voi Fammi salvare la clip Aspetta un attimo Fammi salvare la clip Foto Gli NPC Quando li Li becchi Loro stanno fermi Così Cioè stanno Alla fermi Boh non so Andiamo a stare a destra Oh non riesco Non riesco A stare nella corsia È una strada Troppo stretta No no Ok No aspetta 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 Ok raga Siamo tornati Sinceramente California coast Per un'auto Così potente No grazie In chill sì Ma con questa no Mettiamo il filtro 30% Se no Ci accechiamo Qua sinceramente Raga Non c'è guida chill Non c'è niente Solo disastro Quindi panico Panico Facciamo panico Turbo 100% Yes sir Casino raga Crazy We're going crazy Da baglianti Perché non si vede niente Siamo già a 300 Easy Mi sembra che Arrivava a 350 Quindi ottimo 340 adesso Vabbè Oh Ma Gli NPC Cambiano Cambiano corsia Senza frecce Oh raga Visto Gli NPC sono pazzi Vogliono ammazzarmi Perché vecchio Non è possibile Cavolo È veloce No comunque NPC No bro No Madonna Io ho la beef Forte Ho la beef forte Oh shit 900 cavalli Sembra Una roba al genere Porca miseria Oh Perché qua c'è Una curva a sinistra Mi ricordo Quindi frena Piano piano Ok Curva Tunnel Dopo la parte Con le luci fighe Passo sempre qua Nel tunnel C'è un sound Assurdo La Pagani Ho la Coinseg Jesco 2023 Dopo provo quella 1600 cavalli Wait no wait Ancora St'auto B**ic B**ch B**co B**to B***** Sp rules B*****